Il cuore giallorosso non possiamo farvela sentire perché non abbiamo con la regia mobile la Mersenne Onda però queste musiche le metteremo magari sotto a qualche filmato in modo che possano arricchire e colorire i nostri servizi poi ne parleremo con Antonello Ecco la Roma come altre otto squadre che poi la Coppa Italia già ci ha indicato i nomi Quel vagone del metro al di là del mare, Seattle, Forza Roma, quello che non vedi mio padre non voglio questa è la tua cassetta, quali sono la canzone più da tifoso e la canzone invece un pochino più poetica pur restando in un ambiente giallorosso Allora le due canzoni sulla Roma sono Cuore giallorosso e Forza Roma sono le due canzoni iniziali dei due lati diciamo Forza Roma è una canzone più da stadio diciamo è una samba, una canzone che si canta, si può cantare andando allo stadio per incitare la squadra infatti l'ho scritta con l'animo di un diciottenne Sì perché mio padre invece è un titolo che mi colpisce Sì mio padre è una canzone lenta che parla di un problema dei separati perciò è una canzone che non c'entra con la Roma però ho voluto arricchire la cassetta anche con altre canzoni No ma è importante che questo argomento magari compri la cassetta perché ci trova il tifo ma poi trova anche qualche altra cosa Certo infatti ho fatto una trasmissione, una remittente radiofonica ieri e sono piaciute tantissimo anche le altre canzoni Ti chiedo scusa tu sei autore delle parole e della musica Sì sì Perfetto Passiamo un attimino alla nostra inviata della Lazio speciale Lazio, speciale Signori Grazie E' innamorato dei signori, lui non lo sa però insomma Signori può cominciare a... E' amato da qualcuno Sì sì lo sa, è bello sentirsi amati Allora l'altra volta l'ho fatto con Patrizia e questo gioco lo faccio con te A voi del calcio interessa moltissimo Sì è meno di quelle di mercato però è una cassetta originale a tutti gli effetti C'è una dedica mi sembra di aver capito Sì è una dedica al presidente Dino Viola Compianto presidente che ha fatto davvero tanto È passato adesso il signore Dona Flora Sì infatti la... Tu da quanto tempo segui Dona? Perché non è una speculazione, è un fatto che nasce dal cuore questo Diciamo io ho scritto, sì una canzone che ho scritto per la mia squadra Per la squadra che amo che poi difende i colori della città che amo Perciò... Va bene se ne facciamo l'in bocca al lupo Io volevo vedere la mia scaletta che mi dice Lazio Cesena La mandiamo a Antonio De Pierro e gli chiedo Tu mi hai fatto questo gradevole omaggio Ma se qualcuno la vuole comprare questa cassetta cuore giallorosso Dove si trova? È reperibile presso alcuni dei club giallorossi Anche presso il centro coordinamento Se no presso alcuni negozi Non tutti Per esempio faccio Cinerama, Cinecittà Oppure Good Times a Largo Brancaccio Ok Io ti faccio un bocca al lupo per questa iniziativa Poi tornerai magari Cercheremo di farla sentire anche Spero di portare fortuna alla Roma Specialmente oggi anche nel proseguo del campionato Ma oggi non ci dovrebbero essere grandi problemi Chiudiamo con...